L'idea di ingegnarsi di nuovo per costruirsi il proprio mezzo e di competere non più tra pochissimi amici ma all'interno di un vero e proprio campionato riaccesse la passione di molti. Per questo motivo la scorsa estate si pensò di organizzare il primo campionato regionale di Carretti che richiamò l'attenzione di quasi un centinaio di piloti, diversi dei quali provenienti anche dalla vicina Puglia che si sono dati battaglia in 11 divertentissime tappe che hanno visto tronfare il potentino Pietro Micca primo pilota a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della federazione, Lucana Carretti grazie al supporto della Prolocco di Tito, gli antichi portali, capitanata dall'attivissimo Peppino Cosenza e dall'amministrazione comunale, la federazione ha potuto organizzare la quarta tappa dei Carretti in Tour la gara si è svolta sulla strada vicinale Santa Venere, lungo un percorso di 650 chilometri dove velocità e tecnica hanno messo a dura prova i piloti a corsi a Tito per darsi battaglia in una gara a cronometro in mezzo ad un gremito pubblico a trionfare è stato il pugliese Gino Palmisano secondo posto per Pietro Micca e terzo per il pignolese Domenico Colucci nella categoria Carretti Tradizionali invece nella categoria Monopattini è stato il pugliese Michele Palmisano a salire sul gradino più alto del podio seguito sempre da un pugliese Giovanni Capri e dal potentino Pietro Micca mentre nella categoria Monopattini Gommati è stato sempre Gino Palmisano ad avere la meglio seguito dai conterranei Vito Punzi e Palmisano Michele l'appuntamento per l'altra divertentissima tappa è rinnovato a Calvello il 26 giugno a Calvello il 26 giugno